Avramov, ecco la battuta Margiotta, Semmoli Cristallini Per sfocca, al volo! Mamma che gol! Ai ai ai, è finito anche questo derby Come tanti altri qui al Menti Margiotta Prima, Svok, ora Due gol da campioni Margiotta e Svok hanno fatto la differenza Questo è uno dei gol più belli che ho visto negli ultimi anni in Serie B Su un lancio da centro campo Ha trovato la coordinazione giusta E senza che la palla tocchi terra Ha fulminato Peglo E' un gol da fuori classe, niente da dire Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!